Eccomi qua, buongiorno. È domenica 13 di novembre, abbiamo un clima bellissimo e sembra che siamo nel mese di luglio, un sole splendido e con questa bellissima giornata di sole ringrazio tutti per gli affettosi auguri che stanno arrivando già da questa mattina presto. Adesso sono le 10.30 e vi auguro una felice domenica. Un bacio a tutti da Francoforte.